buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono qua per dire finalmente era ora fitbit sense era ora finalmente è arrivato un aggiornamento che ha risolto non tutti ma molti moltissimi dei problemi che aveva questo smartwatch diciamo che un aggiornamento col quale doveva forse uscire già sul mercato perché l'hanno messo sul mercato la fitbit in maniera veramente vergognosa con un sistema operativo che era lentissimo pieno di lag la misurazione dell'ossigeno si poteva fare soltanto in modi veramente ridicoli con una singola watch face decisa da loro a mio gusto pure bruttina ma lì è soggettivo non si poteva rispondere alle chiamate all'interno c'era amazon col suo sistema operativo alexa ma non funzionava il microfono quindi non ti dava un feedback audio alle domande che si facevano funzionava ma non tutto ora con questo nuovo aggiornamento abbiamo risolto molto 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 ma andiamo a vederlo insieme più dal dettaglio subito dopo la sigla eccoci ora possiamo guardare un po più del dettaglio cosa è migliorato tanto come prima novità che potete vedere qua misura aveva la saturazione lo faceva già con la watch face continua a farlo solo tramite watch face ma non soltanto quella a mio avviso bruttina che era dedicata a suo tempo da fitbit decisa ora ce ne sono tre tra le quali scegliere la solita che abbiamo già visto più volte questa più un'altra che vi faccio vedere dopo nell'applicazione ma cosa importante è questa guardate funziona io tocco lo schermo e si muove cioè pazzesco pazzesco quello che doveva far dall'inizio finalmente lo fa lag ridotti quasi a zero vedete preciso veloce lo scorrimento dall'alto verso il basso con tutto quello che ci doveva tutto va bene finalmente va bene non so cosa dire è uno schermo vedete anche guardate come prende preciso il tocco tengo il dito muovo guardate finalmente fa quello che doveva fare certo vedete qua che magari c'è un po di scattosità vedete un po di laghetti ancora ci sono ma c'è un'altra vita rispetto a come era quando è uscito per tutto il resto è uguale abbiamo in più come dicevo che tempo fa a genova sentito l'audio era al massimo non è altissimo però c'è però c'è adesso c'è parla alexa quindi risponde alle domande che facciamo questo audio che avete sentito è lo stesso che sentirete quando risponderete alle telefonate perché ora si può anche finalmente rispondere alle telefonate al chiuso un ambiente silenzioso va benissimo sentiamo ci sentono se però c'è anche un minimo rumore noi non sentiamo nulla io questo ho paura che sarà un qualcosa che non potranno mai risolvere perché penso sia dovuto proprio una questione hardware e non software non penso che possono aumentare la potenza dei microfoni qua dietro dell'altro parlante qua dietro perché fisicamente è così è così credo che resterà però almeno c'è almeno c'è finalmente abbiamo l'audio come avete sentito poi novità dell'applicazione novità no non è che una novità però finalmente all'interno delle metriche salute vediamo l'andamento anche della sp2 fatto bene col grafico io adesso sono 1 2 3 5 giorni che lo sto tenendo quindi da quando si è aggiornato non vi ho portato una review immediata di questo nuovo aggiornamento perché volevo vedere un po' quali erano le novità e se realmente funzionavano posso dire che funzionano l'assistente c'è quello di amazon quello di google arriverà come scritto anche sul sito di fitbit a gennaio 2021 però diciamo che per il resto ci sono delle belle novità finalmente l'unica brutta novità è che intanto andiamo a vedere i quadranti poi ve lo dico dopo tutti i quadranti dove andate sono andate ecco tutti i quadranti qua vedete che ci sono questi nuovi per la saturazione dell'ossigeno per misurarlo l'SPO2 abbiamo questo che è lo storico che c'era già bruttino a mio avviso però va a gusti questo non è male che è quello che sto utilizzando che avete visto finora e in più questo qua che anche questo non è brutto se lo seleziono ora vediamo un po' di selezionare tutto ve lo faccio anche vedere sull'orologio lo installo nel mentre e quindi abbiamo la possibilità di scegliere nuove watch face la mia speranza è che in un futuro portino la misurazione puntuale dell'SPO2 non costante questo perché lo spero? per il semplice fatto che io adesso come vi dicevo è da quando è uscito l'aggiornamento nuovo che sto usando il fitbit ho notato che finalmente legge l'SPO2 vediamo la nuova watch face che adesso si è installata ah la sta ancora installando vabbè eccola guardate vedete fa vedere sempre il range ti dice più o meno nella media di questo range che cos'hai te e qua vabbè la date vedete che finalmente anche in italiano abbiamo le watch face in italiano emozione direi vabbè tappando qua non fa niente quindi semplicemente così si vede in questo modo con un po' più evidente e con questa percentuale sotto dell'SPO2 medio che abbiamo che ha rilevato vabbè forse con pochi dati forse questa watch face è un po' troppo delicata però per il resto io ho notato purtroppo questo la batteria la batteria ahimè probabilmente perché adesso io forse non so se è il mio modello non lo so però se adesso va quindi non è il mio precedentemente l'SPO2 lo rilevava sempre nel sonno dava una stima mattutina fine ma io credo che adesso invece faccia una rilevazione costante nel sonno cioè quasi tutto il tempo che si dorme di conseguenza la batteria ha perso nel mio utilizzo quindi giorno e notte facendo più o meno un'ora di corsa quasi tutti i giorni che si andiamo su allenamento vedete corso un'ora corso un'ora ci sono un bel po' di allenamenti quindi più o meno facciamo non un'ora magari un 40 minuti giornaliere di corsa non con gps ma perché la sto facendo ultimamente al chiuso quindi tapirulan con mio utilizzo mi fa quattro giorni tenendolo anche la notte a fatica arriva alla fine del quarto giorno prima me ne faceva uno in più quindi secondo me questo nuovo aggiornamento ha portato una diminuzione della durata della batteria comunque vedo che almeno c'è un minimo di interesse da parte di Fitbit di vorremmo migliorare e risolvere i problemi che hanno avuto finora con questo sense io ora averlo al polso mi fa piacere mi ci trovo bene la rilevazione anche della corsa su tapirulan per esempio che è un po' particolare di solito un po' complicato misurare bene il chilometraggio sul tapirulan invece ne ho notato che è molto preciso paragonabile facilmente all'apple watch serie 6 al garmin phoenix 6 pro solar e anche al chilometraggio segnato dallo stesso tapirulan quindi va bene anche la saturazione dell'ossigeno qua da una media del 96 che quindi in un range che dice che vado tra il 92 e il 99 essendo che la misura di notte ci può stare perché comunque misurandola di notte il braccio non lo si ha sempre nella posizione corretta e quindi ci sta che misuri una saturazione un po' più bassa però una media del 96 dormendo potrebbe andare anche bene mi sembra un po' bassa ma potrebbe andare bene io normalmente sono intorno al 98, al 98 e al 100 secondo gli altri dispositivi ma nella misurazione puntuale che è diversa da questa misurazione che fa costante nel sondo e quindi da una media che potrebbe essere forse più corretta o meno non lo so non sono un medico per dirlo comunque sono contento di questo nuovo aggiornamento niente per questa update di recensione è tutto e ci vediamo col prossimo video grazie, ciao